Hola ragazzi, io sono Kaip e oggi siamo su The Escapist Questa qua sarà una serie che terrò io da solo Come Epic, Dn, Scrivel Nuts Però appunto per questi primi episodi che so che è un gioco veramente fatto bene, veramente bello Appunto è un gioco escape dove bisognerà uscire da una prigione nel meno tempo possibile Craftando armi e varie attrezzi che ci serviranno nella fuga Per i primi episodi, come dicevo, insieme a me ci sarà Epic Ciao! Vabbè, intanto ci conoscono che abbiamo un canale insieme Lo sapevate? E noi abbiamo un canale insieme, davvero Ah, e ragazzi intanto salutiamo tutti coloro che sono con noi nella community Sì, perché stiamo creando un gruppo di, come dire Youtuber piccolini Con 300 siti, 100 come i nostri E incominciamo ragazzi E mettiamo Goku Ok, i tutorial, vediamo un pochino, ci sono i ritrovi Bisognava fuggire, bla bla bla, fante sega Questa è l'ultima Ok No Di andando dietro, vuoi fare subito la più difficile, devi sbloccarla Ah beh, è giusto Non fa il tutorial Non fa il tutorial, tanto è facile Fa il tutorial anche Eh, what is it there? Tanto gioca a pescino in te, non ti faccio mentire Ti muovi con Wast Wast, ok Prendi quello Ok Poi, per uscire Let click, vedi Fuori Vabbè Adesso prendilo, prendilo con l'altro, il tasto Davo, e poi già lo sapevo che Sì ma non c'è sta sopra perchè Vabbè Non c'è fuori sta sopra Oddio, ha capito? Adesso vai sopra, vai sopra Doppio click sopra No, no, doppio, tutto un Capito? Vai sopra Vai sopra, ok Adesso sei sopra la scrivania E puoi vedere tutti i condotti Questi sono i condotti Ora prendi quello E clicchi su questo condotto E lo apri Ora vai, clicca No, clicca qua, clicca Vai sopra Con questo ti muovi, vedi Ti muovi E puoi entrare Sì ma non c'è sta sopra E clicchila Vai giù Vuoi essere una camera di dentro? Vai Vai giù Scendi Vedi quello che ha, niente, c'è Palla con lui Non so perchè devi parla Ah perchè ha i moni Cliccaci col destro Vai sul saccotto E' bello il sapone E' il sapone Ora con il sapone sai che bisogna farci? L'arma L'arma Il calzino Sul crafting Metti il calzino Metti bello Ora vai sul profitto Togli col destro Entri Clicchi là E ce l'hai come arma Con space No, con space Cambi la freccetta Vedi che adesso è diventata rossa Quando hai la freccetta rossa Vuol dire che Sarebbe la forma d'attacco Infatti se tu adesso clicchi con la freccetta verde Non ti fa niente Ma se clicchi con la freccetta rossa Lo attacchi Capito? Devi cliccarlo Adesso prendi la guarda outfit Te la metti al posto della tua Che sarebbe la E se la guardia E se la guardia Quindi vai al posto Adesso esci Esci dalle porte lì Vedi le porte Adesso credo che se voglio che togli la freccetta rossa Con space Entri Prendi la palla Col destro E scavi Ora vai sopra Eh ma fidi così non passando avanti C'è riscava Riprendi la palla Scava Scava sopra di te che vuol dire che scavi sopra Big gap No sopra Sul cubetto sopra te Vedi il cubetto Big gap vuol dire scavi sopra Vedi Ora stai scavando sopra E clicchi Col destro Epic Si calco Col sinistro Col sinistro Oh sei uscito Esci fuori E vinto Eh così si Questa è tuttoria Va bene ragazzi siamo rientrati e adesso si Tanto non taglierò niente di quello che abbiamo appena fatto Ah no? Ti farò vedere quanto sei coglione durante il video Va bene incominciamo Puoi mettere i nomi? Morales Quello pelato e di sicuro Epic Ma perché? Ce ne sono tre pelati comunque E poi Epic E poi Epic Poi questo qua Lo devi Vai qua non l'hai salvato di clicca No va che pare E Epic E poi il video qua No divisa su invio Poi vediamo un po' Ehm Avete c'è anche la sorella La mia sorella che mai entra E la guardia perché mi perseguita Marti Vilover Adilov Ma Come si scrive? No si scrive così ma c'è tipo mi Fa schifo Brava Brava si Brava Brava Quello nero è di sicuro Nigga Matrix Playgame Eh Ok che sarebbe Link in descrizione Playgine Lascio sta Playgine Matrix Matrix Poi Ehm Mettiamo Ehm 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 Parkfight No quella è mai scuola Così Park Fight La comunità In Poi vai 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 quello che non è che è cosa Ehm Assassin Assassin Terminito 12 Che siamo andati da poco nella Casi Nella community Non sappiamo Tutti link in descrizione Comunque Assassin 12 Avere Ehm 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 Come si chiama? Lilo? Lilo 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 Poi YouTube E' il poliziotto Ah ho toccato il computer YouTube Qual'è? E' il poliziotto No poliziotto YouTube Così scrive? E' YouTube Tutto minuscolo? No con la YouTube 89 600 Si si ce la voglio 89 Poi? C'è Peste 9 Peste 9 No peste 9 Che vuoi? Perché è peste e sta con gli officer Non perché è antipatico però è una peste Quindi le peste No le peste no ok Le peste Che vuoi? Che vuoi? Vabbè Peste? Visto che è una peste incarcerato perché è una peste Vabbè Quello di pokemon Sembra Vabbè che sono tutti uguali però questo sembra più Ash C'è più Ryan Dash Ma Che ti sei fumato? Vabbè Le va qui Questo è Boh Chiamalo Chiamalo 349 520 Qualcosa Chiamiamolo Bimbu Bimbu Il 6 No il 6 lo lascio Il 6 lo lascio Il 6 lo lascio E poi tutta la nostra conga Gary Gary no c'è questo che Gary 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 Non è Gary Guardalo che è bellissimo Sono tutti fatti Ehm Ok ragazzi incominciamo nella nostra cella se ti alzi dai C'è il can Guardalo Ehm T'hanno veduto in questa prigione Comfostable 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 Più a tutto così random Ma perchè devi prendere Non ti sapevo Non so Tantigenica non ti serve Che me frega Allora guarda Se prendi questo Che è successo State calmi Se prendi questo Puoi aspettare Ma non Ma tu Allora Ah stavo PC sblogger Se prendi questo Col destro E lo clicchi sul muro Te si forma un'arma Bella vai E' già cliccato E prendila col sinistro E pigila Ecco questa è un'arma Vedi che ti sei rotto Adesso vai sul profilo Vedi che è rossa E clicchi E hai già un'arma Con qualche Mannale Aspettate guardi non mi inculate Arrivo arrivo Tanto c'è ancora lo 0% 10% Oh che cazzo Eh vedi questi sono i venditori Però non credo abbia Hai abbastanza Quelli che c'hanno La merda Come faccio Ehi state che vanno Madonna ma quanto sei mo' Hai spaura Corri scendi vai Arrivo 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 Strafottere tutte le posate del caso E so che ci serviranno in particolare le forchette Quindi mi fotto queste E i cucchiai No quello lascialo ti può servire Beh per il momento non ci servono Sara ha preso il dental floss a Matrix Playgame E quindi lo deve riportare Però la dover hai preschiata Sara Non è il momento No 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 metti sì Perché non si sa Può essere che ce l'ha anche sulla sua cesta Sì però deve essere più agile Sì sì mi muovo Vai Allora Uno Usa anche il numero Dove? No il numero No vabbè mi trovo Ecco vedi sei stato licenziato Perché non hai finito in tempo Quindi riprendi Lei scusa non me Eh ma non ti danni soldi No lascia Stai riprendo Devi lasciare a terra quelli Perché? Lascia a terra Lascia a terra le magliette Ah Oddio la mancagine ragazzi Esistono pure Io queste me le fotte le magliette No Ecco salta l'allarme C'è il 98% Scappa 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 Ecco Ti hanno licenziato Adesso scappa Non ti fa vedere Non passare là Non passare fuori Che se no te te laser Non passare Non passare Ma che vuoi Ma che segretario ha detto Non passare Tu non mi ascolti Ah io pensavo fuori Tutti i nudi Popopo Tutti i nudi Popopo Tutti i nudi Ma manco è passato un giorno Il gioco si fa tutto bene Tutti i nudi Due volte Popopopo Tutti i nudi Si Fanno esercizi con q e Di Ta 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 Vedi Qua sopra le Ressioni Ah insieme le devo più giù Ma davvero Ma con due dita puoi fare Anche Non è che devi usare tutti Vedi Quo se ti si alzano anche i cuori Stampe c'è Vai vai Aspettiamo Che tu sei un cuo Ecco Ecco ma non sai veramente niente un po' alla volta ciao a zi si chiude ok a cui siamo tanti non ti rende niente cosa stai guardando credo che stai guardando i porn oppure stai guardando video di qualcuno intelligente ah no ragazzi noi siamo noi non siamo intelligenti scappa scappa devi andare dove la freccetta vedi la freccetta oddio c'è meno soldi di prima non si sa perchè e posso dormire domani devi picchiare sale che è e beh dici io dormo senza col destro c'è col quale di avvicinarti sopra vedi sopra che devo fa dove andarci vicino vicino mi avevo da un'occhiata così a caso e questo era di escapees primo episodio spero vi piaccia questa cosa era una serie che giusto per i primi episodio come ho detto all'inizio ci sarà anche epic poi naturalmente si informerà con i video quindi poi sarà anche la prossima episodio e lì saranno fail su fail su fail su fail su fail questo è il primo episodio di escapees spolliciate iscrivetevi spolliciate iscrivetevi mi raccomando commentatevi vi voglio attivi iscrivetevi che non costa niente a te e mi raccomando watch us and stay funny oh no che cosa sono che è oh oh